All'inizio era, come sistema, una scena molto 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 basata sulla sopravvivenza. Quando lentamente avevo onestamente il tempo, veramente solo, che inteso da vivere. Quello che ho cercato di fare dal primo giorno era cercare di sviluppare, di utilizzare, anzi, 24 ore al meglio. La primissima barriera è arrivata a Londra, è l'inglese. E quello che ho fatto io, personalmente, è stato, prima di tutto, comprare i libri. Quello mi avrebbe dato la grammatica. Seconda cosa, io i primi sei inizio a Londra ho evitato di conoscere gente che parlava nel stesso tempo. Quindi cose molto semplici, però pragmatiche per raggiungere quello. Assolutamente, infatti il trucco per me è stato proprio quello. Nel senso fare le cose veramente semplici, ma allo stesso tempo cercare di fare nel modo più velocemente possibile. Sous-tituladoэzyka Grazie a tutti.